Grazie a tutti i devoti che vengono così che possiamo sederci insieme e condividiamo sul come possiamo incrementare la nostra vita spirituale, come possiamo farlo? Qual è la via? Facciamo un modo facile, come possiamo raggiungere, qual è il progetto della vita? Qual è la via e qual è lo scopo per raggiungere, qual è lo scopo per raggiungere in questa vita? Tre argomenti, uno è Sambandha, uno è Abhideha, uno è Prayogena. Tutti i libri ci parlano riguardo di queste tre argomenti. E poi c'è Abhideha, come lasciare questo corpo e vedere in maniera differente le cose materiali. Non dopo la morte, vivendo in questo corpo, tutti siamo liberi da questo corpo e sensori. E uno è l'obiettivo della vita. Qual è l'obiettivo? Prem è l'amore, l'amore è l'obiettivo della vita. Sì, Mahapur? Sì. Sì. Nessun tre Goswami, tre Goswami, sono Acariyar, solo per parlare questo. Sanatana Goswami parla su Sambandha Jyana. e Abhideha Jyana, Rupa Goswami. Rupa Goswami della Bidea Jyana. Noi siamo di Rupa Anuga. Qual è il significato di Rupa Anuga? Sto seguendo la linea di Rupa Goswami. Quindi pratichiamo Abhideha la linea di Rupa Goswami oppure no? Se non la pratichiamo, come possiamo definirci Rupa Anuga? Mamma, tu fai questo. Sono tuo figlio. Sì. 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 Rupa Anuga significa che devo seguire questo. Rupa Anuga significa che noi dobbiamo seguire questa linea. Sì. 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 Allora potrò comprendere che il mio obiettivo è l'amore. uno è condizionato e l'altro è incondizionato. Amore condizionato significa amare con le condizioni e le condizioni. se tu soddisfi quali sono le mie richieste e le mie condizioni, allora posso avere una relazione d'amore con te. Se però non soddisfi ciò che sono le mie richieste, allora non posso avere una relazione d'amore con un'altra persona, questo amore è condizionato. giusto? Giusto? Quindi vogliamo essere in amore condizionato o vogliamo spostarci verso l'amore incondizionato? e quella è la vita spirituale, l'amore incondizionato. Non ci sono condizioni tra i due amanti, c'è solo amore. Rade Rade Govinda Govinda Are Ate, ate, rovinda, rovinda, ate. 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 Ate, 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 rovinda, rovinda, ate. So, if you see about relation, is a very basic thing for the love, or conditional or unconditional. Distinguere l'amore accondizionato da quello incondizionato è una cosa di base che deve avvenire all'inizio della relazione. If relation is not there, then you have a not idea about that person. Like, I have no relation with Ramananda. I don't know, then I will want to know him. One wants to know and one wants to be in relation. What is better? I have a doubt on you, so I want to know you, so I read book about you. And if you have a relation and somebody gives you a book, I give you a book of his life, you read this, your doubts will go. You say, what I have? I have no doubt, I have a relation. Because you have relation, you have no doubt, then you have a relation. And when there is no doubt, relation is there, and relation means you have feelings also. And you have a love also. Right or not? So when I want to know about you, my Lord, means I have no relation with you. So when I want to know about you, my Lord, means I have no relation with you. Understand? Still I have not doubt is clear. I cannot develop any relation with you. Understand or not? And when I have a relation, I have no doubt with you. I know how much you become naughty, how you are making jokes with, how you are happy, how you become angry to me. I know all your behaviour because of relation. What you like to eat, what you like to drink, what you think and I have to be one with you, with the feelings, not that muddy with you. Oneness means I have so much under each other closed understanding that we can understand very easily we are one in feelings. Unità, essere una cosa sola significa che siamo uno nei sentimenti, abbiamo una comprensione molto vicina. Right or no? Understand? Relation has a beauty. So Sanatana Goswami says without relation you cannot understand, you cannot develop your feelings and love. So Sanatana Goswami says without relation you cannot develop your feelings and love. Any conditional relation is working like this. Conditional, not unconditional. Understand? Everybody experience or not? You have to learn this. It's a natural. It's a nature of the soul. Jivere Svarupa Haya Nitya Krishna does. This is the nature of the soul to behave like this. It's a natural. It's a natural. But we do with this conditional things, with my senses, with my mind, with my body. But we try to love it through our senses, through our body. This is, I make my relation conditional. And in this way, we make our relationships condizionate. If you fulfill this condition, my relation will work with you. If you satisfy what is my condition, then I can have a relationship with someone. And if you not fulfill my conditions, the relation will break. Right or not? But unconditional relation is spiritual. It never breaks. Why? Because I understand what is my unconditional thing, what is not dying, who is always living, and is a Divine. I think you are all old disciples of this, and you all have a spiritual master. You know that what is that thing, a spiritual thing, is your soul, the spirit of the God. That is unconditional, helping every moment in my life. Through all senses, and the body, and mind, and all senses, the help is coming from that. I can listen, I can see, I can talk, I can eat, I can move. This unconditional love of the soul is moving in this body. All bloods are moving, everything. Right? So much. No demand. Giving, but no demand. Return. If you want to feel that beauty of unconditional, you have to be in there. Always conscious with that. Or not? Say it. Just know that I will think that you relate, you like or not like, or you agree with me. And when you are in unconditional stage of your consciousness, then you see, you give love to yourself first. Name, Ru-chi, Jive-dea. This is the mercy of the Jiva that you recognize this. You recognize yourself, that is the mercy to Jiva, that you know what you forget till now, or sometime you forget. You want to know yourself. You make yourself happy. And when you are happy, you are peaceful. Bhagavad Gita Brahma Bhuta Prasanna Atma. Means if you know your Brahma Bhuta, yourself only, you become happy. You are all problem and tension is gone. But this is not final only. This is A, alphabet A. I always say. Others, for them is a Z. For Vaishnava is a A, alphabet A. B is Sambandhyan. This relation with this consciousness, this is B. What relation? As per your devotional practice, you fixed your relation. What is this meaning? Devotion means all action is in love. Devotion means all action is in love. In that mood. If you are motherly, love wants to give to Gopala, you have to believe all the moment that you are a mother. Every moment, one moment if you forget, then no devotion. Every moment with that mood to move on. And that mood of love is important. I want to say this. Yesterday he came in morning. You see, young boy. And he said something to me. And he's touched my heart. I want to listen from his mouth. What he said to me. Please say, my dear. Say in Italian but loudly. Then, the mic is broken. Yes, I can use it. Turn this side. Okay. I want to listen to this side. See, enter. Faccio la soluzione per i devoti, ma che cosa è Radarani? Non dobbiamo capirla in maniera come se dobbiamo interpretare qualcosa di esoterico Radarani è anche Bhakti Devi e che significa Bhakti? Sappiamo che Radarani è l'amore quindi finché non agiremo in amore non capiremo mai Radarani quindi finché non agiremo in amore non potremo capire Radarani perché Radarani è l'amore. Si dice che se non agiremo in amore non potremo capire Radarani se non agiremo in amore non potremo capire Radarani non potremmo capire, non potremmo parlare di Radarani Radarani significa sempre che la tua vibrazione è in amore ma poi sarà come si rende meravigliosa quando le nostre vibrazioni saranno in amore Dio, che cosa? Dio, che questa realizzazione veniva a me quando ero seduto e mi stavo andando con le tifine. Dio, che questa è una realizzazione che lui ha avuto abbindavano. è un figliobo e abbiamo questa realizzazione. E adesso è un figlio che abbiamo questa realizzazione. Sì, grazie. Quindi, quello che voglio dire è conoscere noi stessi è il centro di questo momento di tutto. Il vostro occhio, il vostro sentimento, il vostro sentimento, il vostro sentimento, il vostro sentimento, il vostro sentimento. Il vostro sentimento, il vostro sentimento, il vostro sentimento, il vostro sentimento. E quanto è il centro che ci permette di far muovere il nostro corpo, dove fluisce tutto il nostro amore che noi abbiamo nelle relazioni, nelle nostre azioni. Questo è un dare incondizionato. Solamente la sua vita ci dona tutto questo, senza chiedere niente in cambio. Però questa è una particella del Signore, di Cristo. Di Cristo. Eh? È una parte e una parte che ci dà questo. Cosa succederà quando ci saranno connessi? Cosa succederà quando noi saremo realmente connessi questa particella al Signore Supremo? Cosa succederà quando noi accettando e realizzando tutto ciò diventeremo pacifici. Cosa succederà quando noi ci dormino è ninzito? Cosa succederemo? si vanno per 10 anni, 20 anni per la meditazione, per questa realizzazione. E vedete la miseria del nostro Mastro spirituale? Quindi vediamo la misericordia del Mastro spirituale, no, non facciamo nessuna di queste austerità, però otteniamo questa grande misericordia. Understand or not? What is the mercy? The chanting is the mercy. Cos'è la misericordia? Il canto? After doing so much mistake, mercy is coming and to getting that self-realization causeless, means no reason for that, that I got that, but I can feel it. Now what to do? We have to extend this. We have to develop this, my dear. We have to develop the duration time that I can stay more there. That to do. Duration time that I can live in this consciousness more and more. Right? By living in this, you will start looking up in others also like that. You will not see flash and senses. You will see first to the soul. Because you are looking your soul, you will feel that this different pain and happiness. If you are living in this consciousness, then we can also see the soul within other people. Why? Because we can also see the soul within us. Understand? And that feeling and understanding of relation will become your divine in this material life also, and in his spiritual life also with Krishna also. In the family also you will behave, your behaviour will change. If your behaviour is not changing, then he says no. How can I reach Radhika? You see? If our behaviour doesn't change, then how can I reach Radhika? Not that it would have她 was taught in journal books, but the truth is not that the truth usually In the name of application, I 29 options as the doubt in particular force.